Questo video riguarda i migliori 3 lucidatrice per auto. Il vincitore della qualità è il Batocca lucidatrice. Rispetto alla normale lucidatrice, è dotata di orbita casuale, pista lucidata in modo casuale fino a 21 mm, perfetta per lucidare e rimuovere vortici, graffi e difetti da tutti i veicoli verniciati, rendendo la tua auto come ogni giorno la fa sembra nuovo. Le lucidatrici per auto eccentriche sono adatte per auto, barche, motociclette, marmo e parquet. Compresi dischi in spugna per lucidatura da 150 mm asterisco 4, tampone di lana da 150 mm asterisco 2, panno in microfibra 2 pezzi, carta vetrata da 12 fogli da 6 pollici, borsa per bagagli Batocca. La lucidatrice a velocità variabile ha un sofisticato quadrante elettronico, che può facilmente regolare la velocità senza pause. È possibile regolare la velocità della lucidatrice da 1000 a 3800 giri al minuto per adattarsi a diverse applicazioni. Con il design del blocco dell'interruttore, dopo aver premuto il blocco, è possibile ruotare la ruota di regolazione della velocità per regolare la velocità e ridurre l'affaticamento. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Eneacro lucidatrice. Solo 2.85 kg di peso leggero, il design compatto e portatile lo rendono facile da trasportare e conservare. Il quadrante a 6 livelli di velocità variabile permette agli utenti di controllare la velocità da 600 a 3000 giri al minuto secondo i vari compiti o materiali e migliorare l'efficienza del lavoro. Potente motore da 1500 W produce fino a 3000 giri al minuto con basso rumore, abbastanza potente per un professionista. La lucidatrice è dotata di due maniglie staccabili, puoi scegliere il modo in cui ti senti comodo. Nel frattempo, con il design del blocco dell'interruttore di sicurezza, è possibile mantenere una velocità premendo il pulsante in modo sicuro e conveniente. Viene fornito con carte abrasive, ruota di spugna fine e ruvida per laceratura, disco per lucidare la lana. È possibile utilizzare diverse ruote di spugna per finire diverse applicazioni. Il vincitore del premio è l'SPTA lucidatrice. La mini lucidatrice è l'accessorio perfetto per lucidare e rimuovere, graffi, macchie e sporco dalla tua auto. La lucidatrice per piccole superfici è uno strumento efficiente ed estremamente utile per riportare l'auto allo stato originale. La lucidatrice è piccola, quindi facile da usare e trasportare. Il lucidatore funziona con una batteria Leon 1500 ma che ha un tempo di carica di 1 a 2 ore. Il mini lucidatore è molto facile da usare, non importa se sei un principiante, devi solo caricarlo e iniziare a usarlo sulla superficie della tua auto danneggiata. Con la sua spazzola da 30 mm barra 50 mm barra 75 mm e il suo filo mandrino M8, la tua auto sarà presto più pulita e senza graffi. Il piccolo strumento di lucidatura è estremamente utile per lasciare l'auto in perfette condizioni. Se la vernice della tua auto ha subito danni causati da graffio sporco, con il mini lucidatore puoi eliminare completamente questi danni dando alla tua auto un aspetto perfetto e nuovo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.